Siamo arrivati in Puglia! Sembrano i manchi! Io adoro i manchi! Ehi, pensi solo a mangiare! Guarda, è una mela melosa! Clancy, ma quella non è la mela! Sì, invece! Ah, ragazzi, guardate! È una nostra marina! Sembrano i miei! Magciamati questo! Che cos'è? Questo mi sembra rivedere una panda rossa! Mi scusi tanto se vi è una panda rossa! Anche il mio pass qui! Arrivederci!